Ciao ragazzi, l'elfo Loresca è tornato dopo che l'elfo Cummenda è partito per altri lidi nelle vicinanze di Vimercate e oggi è il 7 di dicembre, giornata in cui forse il Cummenda sarebbe stato più opportuno perché è Sant'Ambroge detto anche Sant'Ambrogio, patrono dei milanesi e in generale delle città piene di piccioni e quindi il gioco che vi consigliamo è Attoful Boyfriend, titolo veramente molto strano uscito quest'anno in esclusiva su PC è un gioco basato su di uno scherzo del pesce d'aprile del 2011, una visual novel barra dating game basato su di un universo dove tutti gli abitanti sono piccioni, senzienti, che hanno a che fare anche con gli umani sembra una cretinata ma in realtà il gioco è riuscito molto bene, così bene che poi hanno pensato di trasformarlo da un pesce d'aprile in qualcosa di serio e il titolo è veramente molto valido perché al di là delle situazioni assurde in cui ci si trova e i personaggi assurdi con cui si ha a che fare nel gioco si interpreta un umano in una scuola abitata soltanto da piccioni in pratica si scopre che gli umani all'interno di questo gioco vivono una situazione che ricorda molto quella dei neri nel Sudafrica dell'Apartheid quindi le cose si fanno molto più serie di quanto si potesse immaginare all'inizio e nonostante comunque questi argomenti seri il titolo fa veramente sbellicare dalle risate ve lo consiglio purtroppo è solo in inglese ma se conoscete la lingua cara al buon Shakespeare vi potrete divertire per moltissime ore, costa veramente molto poco il gioco ho concluso, ci vediamo domani con un santo che non è un santo a domani